Abbiamo appena comprato l'ennesima macchina fotografica o l'ennesimo obiettivo e ancora non riusciamo a tirare fuori le fotografie che volevamo? Questo è un problema endemico di cui sento parlare sempre più spesso, ovviamente ci sono passato anch'io e oggi vado a raccontarvi come se ne esce. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia per mestiere da ormai tanti anni, ho comprato un sacco di corpi macchine e un sacco di obiettivi in vita mia, qualche volta è stata una cosa buona, altre volte mi sono reso conto di aver fatto una cavolata. Ma la cosa che ho sempre riscontrato è che per fare buone fotografie il più delle volte quello che mancava dovevo mettercelo io, non potevo fare affidamento al 100% sulla mia strumentazione, con ovviamente le dovute eccezioni. Nel corso di questo video vado a spiegarvi come si fa a tirare fuori il meglio dalla nostra strumentazione e perché dobbiamo smetterla di pensare che se non riusciamo a fare qualcosa dobbiamo comprare qualcos'altro. Prima di cominciare io vi ricordo di cliccare il bottone qui sotto per iscrivervi al canale, se state frequentemente sul mio canale vedrete che risparmierete un sacco di soldi e comprerete molta meno roba che non vi serve e comprerete qualcosa di molto bello ma a questo punto sarete sicuri che è l'acquisto giusto per voi. Facciamo un passo indietro, parto da una domanda che mi è stata fatta da un mio iscritto e che mi ha chiesto io ho questa strumentazione, non riesco a fare le fotografie che vorrei, stavo pensando di cambiarla e di prendere quest'altra cosa. Tu che cosa ne pensi? Io leggo la domanda e dentro di me penso hai una fotocamera della madonna, è un'ottica bellissima, hai speso 4000 euro e non riesci a fare delle foto che per me sono semplici. Le cose tutto sommato era una roba non difficile, cioè non si stava parlando di andare sul satellite e fotografare una cometa al volo, era una roba molto semplice, non sto neanche a dirvi cos'era ma era veramente una roba terra a terra che metà di voi la sa già fare. Il punto qual è? Nel momento in cui noi compriamo qualcosa e crediamo che l'acquisto automaticamente ci dia il diritto, la capacità, mettetela giù come volete, di fare una determinata foto, stiamo sbagliando. Il marketing ci ha venduto quella cosa che abbiamo comprato ma non ci ha regalato, perché quella è gratis, la consapevolezza che comprare non è sufficiente. Perché vi dico questo? Perché spesso e volentieri a me è capitato di decidere che volevo fare una determinata foto. Facciamo un esempio. Mi è capitato di decidere che volevo fare fotografia macro. Capita a tutti, ci piace, è divertente. Difficilmente si fa per lavoro, difficilmente ce la pagano la fotografia macro, salvo orari casi nella fotografia industriale, a me è capitato. Però difficilmente è una cosa che diventa il nostro core business all'interno del mondo fotografico. È una cosa divertente, quindi uno dice compriamoci un obiettivo macro. Senza un obiettivo macro la macro non la fai. Punto. Semplicemente senza un obiettivo adatto quel tipo di fotografia non la fai, come per tanti altri tipi di fotografia. Quindi nel momento in cui acquisti quell'obiettivo sei in grado di fare quella determinata cosa. Quindi è vero che l'acquisto di un oggetto ti mette in grado di fare quel qualcosa. Ma io mi ricordo quando ho acquistato il mio primo obiettivo macro, sono tornato a casa e mi veniva da piangere ragazzi, da piangere, perché non riuscivo, non riuscivo a farla. Non riuscivo a farla perché non sapevo come fare, non avevo capito quanto fosse complicato, quanto fosse impegnativo. Non avevo capito che si doveva stare su tre piede, non avevo capito che si doveva usare la slitta per andare avanti e indietro. Non avevo capito che la scena andava illuminata e gestita in modo diverso rispetto a quello che ero sempre stato abituato a fare. E ci ho sbattuto la faccia e ho cercato di capire, e infatti ho capito, ho ricostruito anche guardandomi dei tutorial di fotografi più bravi di me su YouTube e non solo. E quindi ho capito che quello che il marketing mi aveva venduto era un ingrediente, non la ricetta finita. E questa è la cosa più importante, è questo che vi voglio portare oggi. Ricordatevi sempre che comprare un pezzo è un ingrediente, non è il piatto pronto. Quando voi acquistate una macchina, fosse anche la macchina più spettacolare e costosa dell'universo, quella macchina non è il piatto finito. Il piatto finito lo dovete fare voi. Voi avete solo comprato una pentola per cuocerlo, quel piatto, ma il resto delle cose che spesso sono più importanti della pentola, le dovete mettere voi. Vi dico questo perché non tanto per bacchettarvi e dire dovete impegnarvi di più, cioè sì, fa sempre bene dirsi che lo sprone a impegnarsi di più va sempre bene, però non è questo il mio obiettivo oggi. Il mio obiettivo è farvi passare il concetto che quando avete una fotocamera è veramente difficile che non riusciate a fare quello che volete. Con le macchine di oggi, soprattutto se avete speso tanto, perché nel caso che vi nomino io stavamo parlando di un corredo da 4.000 euro. Quindi con un corredo da 4.000 euro o hai cannato completamente e ci può stare. Uno dice guarda io volevo fare fotografia naturalistica, volevo fare bird watching e ho comprato un fisheye. Ok ci sta, hai cannato tutto e allora sì che devi cambiare qualcosa. Però in quel caso è evidente che il problema è la strumentazione, perché con quella strumentazione, cioè con un fisheye cosa fai? Vai a tanto così da un pettirosso per fotografarlo? Vai a tanto così da un'aquila per fotografarlo? È impossibile. Quindi è evidente che lì il problema è la strumentazione. Ma in altri casi, cioè io ho sentito gente, adesso faccio una carrellata, io ho sentito gente che mi ha detto eh ho appena preso l'ultimo modello di Fuji ma lo voglio cambiare perché non mi piacciono i colori che tira fuori col bilanciamento del bianco automatico. E ho comprato l'ultima Nikon ma la voglio cambiare perché non riesco a fare le fotografie in movimento che voglio fare. Ragazzi, la macchina va impostata, cioè non ti piacciono i colori, modifica i parametri e tiri fuori i colori che vuoi tu. Oppure vai in postproduzione e modifichi i colori sul file RAW. Quindi senza caduta qualitativa fai esattamente i colori che vuoi. La fotografia ti viene mossa, modifica i tempi. Tutte le macchine devono essere impostate. Ovvio che se le usiamo sempre tutte in automatico perché pensiamo basta io l'ho comprata, io il non funziona così. E soprattutto l'errore più grande, tenete conto che queste sono cose che ho sbagliato io per primo, per questo le so, quindi ve le dico perché le ho sbagliate io per primo, non è che siete scemi voi e il resto del mondo ha capito tutto. Tutti quanti non le sappiamo all'inizio, tutti quanti le sbagliamo. La cosa più grave che a me è capitato di fare è di comprare una macchina e di pensare, oppure semplicemente di avere con me una macchina e di pensare devono venire bene per forza, sto usando questa, cioè va che roba che c'ho, devono venire bene per forza. Poi le riguardi a casa e dici, ma sono piatte, non sono venute bene, è tutto piatto, non funziona, c'è qualcosa che non... E lì capisci che devi cominciare a studiare, devi cominciare a lavorare sulla composizione perché con la macchina più bella del mondo, se la tua composizione fa schifo, la foto sembrerà fatta con uno smartphone, sembrerà buttata lì. Se la tua luce fa schifo, se la luce non è curata, tu puoi fare quello che vuoi, ma il materiale farà comunque schifo perché non ci hai messo gli altri ingredienti. Tu hai comprato una pentola, che è la tua macchina fotografica, hai comprato un pezzo di carne, che è l'obiettivo. E poi però la pentola è rimasta sul fuoco e la carne è rimasta cruda e tu dici, ma come mai? Io i soldi ce li ho messi. Dovevi mettere la carne dentro nella pentola e magari mettere una noce di burro e una spezzietta così tanto per... E questo è quello che mi preme farvi capire oggi. E come si risolve questa cosa? Secondo me si risolve studiando, primissima cosa, studiando, guardando le foto degli altri e cercando di capire che cosa vogliamo fare prima di comprare qualcosa. Perché se io voglio fare birdwatching e compro un fisheye, o non ho capito io come funziona o mi hanno consigliato male, però insomma è molto facile capire che ottica dobbiamo prendere in base a quello che dobbiamo fare. Ho anche fatto un video io a riguardo vecchio, trovate già pubblicato, non è difficile capire che ottica dobbiamo comprare, più o meno. Poi io capisco che uno magari dice non so cosa prendere tra il 35 e il 40 mm. Orca miseria, cavolo, è una scelta difficilissima. La verità è che una scelta del genere non ti cambia nulla nella vita, puoi prendere una e l'altra e non ti cambia praticamente niente. Se hai il dubbio tra un 10 mm e un 600 mm è quello più problematico perché vuol proprio dire che non hai la minima idea di come funziona la fotografia e quindi in ogni caso prima di comprare cose dovresti metterti lì e documentarti un pochino prima di buttare soldi comprando qualcosa che non hai capito. È come se io provassi a comprare una Bugatti. Bugatti, un'automobile bellissima, super prestazionale, troppo prestazionale e troppo costosa. Non ha senso che io la compri. È bella, mi piace. Se me la regalate un giro dell'isolato ce lo faccio e mi schianto di sicuro perché è una supercar che non sono in grado di guidare. Però non ha senso che io provi a comprarla. Non so nemmeno a cosa serve una macchina del genere. Non ho gli strumenti per capire come usarla e quindi è inutile anche che io ci provi. Invece sarebbe molto meglio che io mi facessi un corso di guida magari sportiva per imparare a guidare una macchina normale. Partire con una macchina normalissima da utilizzo stradale e vedere come utilizzarla in maniera un po' più sportiva per poi magari passare a capire come si utilizza una macchina da rally e poi perché no andare anche sul circuito e provare una macchina da formula 1 se ho le risorse economiche per farlo. Ha molto più senso questo piuttosto che comprare una Bugatti subito e poi dirsi cavolo io la Bugatti l'ho comprata perché non riesco a fare il miglior tempo sul circuito? Perché non sei capace di guidarla? Se metti un pilota su un appunto magari fa un tempo migliore di te perché lui è un pilota e tu no. Questo è quello che vi volevo portare oggi. A questo punto fatemi sapere come sempre nei commenti che cosa ne pensate. Parliamo dei vostri acquisti sbagliati e di perché li avete fatti. Magari potrebbe essere di aiuto per chi poi viene sul canale. Vedo che molti di voi leggono anche i commenti quindi potrebbe anche essere d'aiuto per tutti. Signori io vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciate anche un like a questo video perché probabilmente vi ho fatto risparmiare una tonnellata di soldi. Vi ricordo i prossimi appuntamenti non perdeteveli quindi se vi iscrivete è meglio così siete sicuri che rimanete sempre aggiornati. Io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me. Vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Grazie.